Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Blu Profondo Blu ragazzi oggi ragazzi andremo a parlare di 6 errori da evitare nel nostro acquario il primo errore è quello di prendere una vaschetta o meglio una boccia senza filtro perché se la nostra vaschetta o la nostra boccia è senza filtro i nostri pesci non avranno l'acqua intanto purificata e soprattutto non avranno il continuo circolo dell'acqua quindi questo errore qua è un errore che si fa spesso e va assolutamente non fatto magari basta un acqua da 100 litri o una boccia con il filtro e va tutto bene secondo errore, quello di prendere un pesce e non farlo ambientare è molto importante farlo ambientare perché solitamente si prende un pesce e lo dai nel sacchettino e vai con il sacchettino rovesciarlo nell'acquario non funziona così vi spiego il motivo perché quando andiamo a rovesciare il sacchetto pieno d'acqua con il pesce nell'acquario fate lo sbalzo della temperatura già che c'era l'acqua che c'era già nell'acquario perché andate a mettere l'acqua del sacchetto dentro l'acquario e in più fate andare a fargli uno sbalzo di temperatura al pesce quindi va comprato il pesce, il suo sacchettino va immerso nell'acquario ogni 15 minuti la tazzina, una tazzina, prendete delle tazzine, le riempite con l'acqua le mettete dentro il sacchetto fino ad arrivare a un'ora, due così e poi il pesce lo potete buttare non con l'acqua lo prendete con il rettino e lo mettete nell'acquario questa è la seconda cosa importante da fare l'errore che viene fatto perché solitamente il pesce si prende col sacchettino e viene immerso lì, sbagliatissimo terza cosa, la terza cosa è quella di stare all'inizio quando andate a prendere i primi pesci non restare a prendere una valanga prenderne tre e poi andare ad aumentare anche se è 300 litri l'acquario cominciate con tre pesci, fate ambientare tutto e poi ne aggiungete altri perché vi dico questo? vi dico questo perché quando ne mettete troppi nello stesso tempo fanno più fatica ad ambientarsi perché sono già di più, hanno meno spazio e sono più... invece se stanno tanto piano piano, tre magari per un mese poi dopo un mese ne andate a prendere altri due e piano piano si va a poterne prendere per un acquario da 300 litri 300 litri è anche tanto, però se ne mettete già 4 va bene se ne mettete già subito 20 non va bene perché comunque andate a... il pesce va già a essere più timido e non ha più la cosa di buttarsi a esplorare l'acquario e l'allestimento quarta cosa la quarta cosa che è quella che viene fatta di più di tutte è quella non cambiare l'acqua quando va cambiata se l'acqua va cambiata una volta a settimana voi non è che potete cambiarla una volta in tre settimane perché è una cosa sbagliatissima quindi una volta a settimana va cambiata l'acqua ed è molto importante ha maggior ragione se avete degli acquari non potentissimo il filtro così quinta cosa è una cosa davvero importante ed è un errore da non fare o meglio quello da andare a mettere troppi maschi in un acquario perché il pesce se ci sono troppi maschi vanno a pestarsi quindi dire al venditore se avete già un maschio allora gli chiedete al venditore se volete per esempio uno scalare femmina perché se c'è lo stesso sesso nell'acquario vanno a pestarsi pestarsi ora magari fino alla morte se avete un acquario grosso ma se l'avete già più piccola anche fino alla morte quindi è molto importante questo perché quando si vanno a mettere troppi maschi si vanno a combattere e a prendersi molto fino anche a uccidersi e qui sesta cosa scusate è quella di quindi quando si decide di andare a prendere dei pesci allestire molto bene l'acquario perché come vi ho già spiegato pesci abituati a vivere in un fiume o comunque in un mare vengono messi in un habitat dove sì che c'è l'acqua ma per loro non è importante solo notare è anche avere un'abitazione dove è simile all'habitat che erano quindi un bel allestimento consiglio un allestimento con magari delle semplici rocce vive e qualche piantina anche finta molto importante quindi ragazzi queste sono le sei cose da evitare o meglio da evitare e vi ho anche spiegato come fare per evitarle e ciao a tutti ragazzi ciao